Vai, vai, filma, filma! No! 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 Vai, filma! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Guardi! Guardi! Ecco, no! Infatti, un piede sulla ceppa tagliata! Questi uomini! Ai, ai, ai! Con la mano? No, no! Ti vedo un po' in posizione critica, infatti! Dai, dai! Con la mano! E' male! Ti metti su Youtube, sei perfetto! Devi fare da sola, è una vittoria! E' una soddisfazione! Fatti al guadro al vt! Dai, dai! Dai, dai! Max, vai! Ti prendiamo per i capelli, Paolo! Come andiamo a scendere? Mettimi le mani così che ci metto il piede! Non fa male, dai! Madonna, ragazzi! Uuuuh! Matteo!